Dimenticatevi i messaggi in bottiglia. Oggi le dichiarazioni d'amore si nascondono in un cappello. Per non sbagliarsi si chiama Love Milk, copri capo speciale ideato dalla veronese Maria Teresa Ferrari, come simbolo dell'amore che può molto, anche se non tutto, contro il cancro. Baschi, turbanti che oggi hanno indossato per San Valentino, anche le voci di RTL 125. Tra i testimonial del progetto benefico ha anche la conduttrice Valeria Benatti. Trovo che sia bellissimo partire da sé per curarsi. Maria Teresa ha inventato questa linea di cappelli dopo una malattia e durante una malattia oncologica che l'ha portata a perdere i capelli e ha creato questi capelli scintillanti proprio per cercare di rendere luminosa una parte che altrimenti era ferita ed era appunto senza capelli. Sono orgogliosa di aver prestato anche la mia faccia per questa serie di capelli perché sono i capelli comunque gioiosi, scintillanti, che esprimono l'amore a 360 gradi. L'amore parte da noi, il messaggio di Maria Teresa non conosce tessuti o colori. Il cancro ha bussato alla sua porta e lei ha risposto con una linea di copripensieri, come ama chiamarle lei queste sculture da indossare, che si sono declinate anche in occasione di Verona in Love. Cappelli del cuore si chiamano infatti quelli creati per la festa degli innamorati, costruiti dal design attuale di Giampaolo Malesani, sosterranno l'associazione La Cura Sono Io. Le cose importanti in fondo partono dalla testa e a volte serve un copricapo per ricordarselo. È un messaggio d'amore che contiene tanta speranza, tanto ottimismo, pensieri positivi e che vuole lanciare un messaggio d'amore anche a chi magari oggi soffre, è un po' più solo e pensa di non averlo l'amore, invece l'amore ce l'ha comunque, perché anche se non è in coppia, l'amore basta che si guardi attorno, il mondo è pieno d'amore. È con questo sguardo che noi riusciamo a trovare l'amore e la forza anche in un fiore. Io dico sempre che un fiore è una meraviglia.